Ha deciso di rubare all'interno della cassetta delle offerte asportata dalla basilica di San Paterniano di Fano. Un 31enne di Riccione è stato così arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Fano. La pattuglia nel controllare come spesso accade la stazione ferroviaria ha infatti notato l'uomo nel sottopasso con fare sospetto mentre era intento a raccogliere delle monetine da terra cercando di nascondere maldestramente uno sportellino in legno e un'apribottiglie, oggetti in relazione ai quali non aveva fornito una giustificazione. I militari hanno così controllato l'intero sottopassaggio trovando nel sottoscala tra il secondo e il terzo binario una cassetta in legno abbandonata da subito identificata come una cassetta delle offerte. A quel punto il giovane davanti all'evidenza ha ammesso di aver asportato la stessa e di averla portata lì per prelevarvi il contenuto lontano da occhi indiscreti. Ne è seguita un'attività di ricostruzione del furto grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine che hanno mostrato il giovane arrivare in bianolfi con a spalla la cassetta delle offerte dopo averla asportata dalla chiesa. Al suo interno circa 140 euro in monete che sono stati restituiti insieme alla cassetta ai frati della basilica. L'uomo in seguito alla convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio che si svolgerà con rito ordinario.